Ti ricordi ancora una qualche scena, un qualche errore? Mamma mia, tantissimi! E se ce n'è uno proprio che magari ancora ti fa ridere al ripensarci rispetto a Camera Caffè. Ce ne sono tantissimi perché abbiamo girato tantissimi episodi e quindi gli errori sono dietro l'angolo, cioè sono proprio all'ordine del giorno, non è normale se non li fai. Quindi mi è capitato con un attore, con un altro collega del cast, con Massimo Costa, di fare 59 Chuck. Questo non me lo posso dimenticare perché dunque l'episodio, poi magari adesso mi verrete anche, forse la giornata di Laria. Più o meno la scena com'era? Eh, ma perché c'erano dei continui intoppi, insomma delle continue problematiche, 59 Chuck, e infatti l'episodio in onda, io l'ho visto chiaramente, quello che è successo, per il semplice fatto che i primi Chuck sono nella mattinata della giornata e ho i capelli a posto, e gli ultimi Chuck sono sconvolta perché il trucco perrucco non riusciva più a tamponare e quindi praticamente ho le occhiaie, ho i capelli che cominciano a imbizzarrirsi in testa e loro intervenivano, ma Massimo anche lui è distrutto, quindi, cioè, mi ricordo quello, cioè quello questo è memorabile perché, insomma, vabbè, è negli annali proprio. Poi me ne ricordo un altro dove, vabbè, ogni tanto c'erano degli episodi, capitato, dove noi giravamo una sorta di piano sequenza, cioè, no? E quindi nelle tre parti dell'episodio, però ognuna delle tre parti era una sorta di piano sequenza, non potevi, cioè, se sbagliavi si ritornava indietro e si ricominciava da capo, non è che c'era poi un montaggio scarti lasciando, no, dovevi rifare tutto. E quindi ci sono, vabbè, episodi dove eravamo in tanti, magari ci sono delle entrate consecutive, l'ultimo se sbaglia, rovina tutti e tutto, e quindi c'erano delle volte dove tutti vedi che guardano in Cagnesco qualcuno che arriva e dice la battuta e, cioè, così, e quindi se sei rovinato, devi ricominciare da capo, questi sono avvenuti tante volte, e uno, dove però assolutamente non abbiamo sbagliato, perché siamo stati minacciati di morte, dove alla fine veniva, non mi ricordo il titolo dell'episodio, viene distrutto un bidet, un bidet di portellana cade, non mi ricordo assolutamente il titolo, cade e si frantuma e ce n'erano due di questi bidet. E, primo, secondo, capite che si sfraccella la porcellana, quindi bisogna ripulire lo studio, cioè, noi siamo stati minacciati e è andato tutto bene. Quello del bidet voglio trovarlo, perché avevo visto in una chiacchierata un'intervista che hai fatto su Instagram che citavi appunto come in alcune situazioni c'erano degli oggetti di scena che dovevano essere rotti e non è che potevi romperli 20 volte, magari la frase che non ti viene puoi ripeterla 20 volte, però l'oggetto di scena appunto no. L'episodio con il bidet lo troveremo. Eh sì, è chiaro che anche in televisione come anche nel cinema, è chiaro che in questi casi si predispone tutto per rifare tutto, però si cerca di non fare qualcosa, ecco, quando è possibile... Cerca di farlo bene. Sì, un altro dove vengo ricoperta di, come si chiama, per spegnere gli incendi, non mi viene... Io stavo per dire quella, l'estintore, sì. Sì, l'estintore. Eh, esattamente. La Patti, sì, la Patti che era molto cretina in quell'episodio e faceva il casino... In molti altri! Ah sì, beh, ma in quell'episodio... No, lo eravamo tutti. Vabbè, il personaggio, sì, 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 il personaggio... Eh, a proposito di personaggio, una domanda che ci hanno fatto arrivare su Instagram è se per caso alla lunga interpretare un personaggio così carico di aspetti negativi in camera a caffè, che alla fine lo sono tutti, no? Però appunto interpretare un personaggio in camera a caffè alla lunga per caso ti ha stufato perché comunque era bello, bello cinico il personaggio di Ilaria, o come l'hai vissuta? No, no, invece l'ho amato di più nel proseguo del tempo proprio, mentre all'inizio avrei voluto farne un altro perché, sì, io avevo fatto il provino per Gaia. Magnifico, magnifico. E poi anche perché, e all'inizio non l'amavo anche perché il mio personaggio aveva sempre, insomma l'abbigliamento era sempre il tailleur, bianco, nero, comunque era sempre così. Quindi guardavo le altre che mettevano queste cose e mi dicevo, no, che bello, quello lì lo posso mettere? E mi dicevano, no, Ilaria questa cosa non la può mettere, ma come? No, 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 no. E quindi mi giravo, c'era il mio tailleur e dicevo, porca miseria, no. Volevo mettermi delle cose un po' diverse che in qualche episodio c'è stato, ma se no io avevo sempre, insomma, ero sempre riconosciuta comunque con minigon, il tailleur, e i colori erano anche quelli lì, poi qualche volta si è spaziato, ma non molto. Niente, quindi ero molto invidiosa dei, insomma, di tutto quello che potevano mettere le altre e io no. Però invece poi col passare del tempo invece l'ho apprezzato sempre di più, sì, che sì. Ok, c'era per caso qualcosa in particolare che, non lo so, da un lato magari ti è piaciuto di questo personaggio, e chissà, magari hai imparato, anche l'hai portato nella tua vita, e magari c'era una cosa specifica che invece proprio ti triggerava, ti dava molto fastidio del tuo personaggio, o eri abbastanza distaccata, di tranquilla, rispetto a Ilaria? No, vabbè, si cerca sempre di avere comunque una distanza, proprio per poterlo, diciamo, gestire al meglio. No, qualcosa che non mi è piaciuto, qualcosa che non mi è piaciuto, no. No, decisamente, anche, voglio dire, anche nel, appunto, l'aspetto più negativo, invece l'ho apprezzato, cioè, essendo molto lontana da me, invece ho apprezzato molto il fatto di mettermi in gioco molto, molto di più. Sarebbe stato più vicino a me un, appunto, personaggio come Gaia, ma anche come Alex, paradossalmente. In che senso Alex? Eh, sì, perché poi nella vita sono un po', eh, sono un po' più così, quindi, però forse sarebbe stato troppo, troppo facile, così invece mi sono dovuta impegnare tantissimo. Cioè, all'inizio mi è stato detto più volte, più stronza, scusate, eh, la parola, ma... Quello, no, no, di più, di più, no, più dura, più dura, all'inizio ho fatto fatica, nei primi episodi sono un po' meno... Sì, è vero. ...diretta, un po' meno ridata, anche nelle movenze, in tutto, insomma, c'è stata proprio un'evoluzione. Forse le movenze, sì, l'avevo notato, diciamo. Ma, ora che ci rifletto, è cambiato anche un po' il look. All'inizio erano, tipo, i capelli lisci, e poi dopo i capelli sono sempre solo ricci. Quello è stato... beh, i miei capelli sono ricci. I miei capelli sono proprio ricci al naturale. All'inizio, quando cercavano, appunto, di capire il personaggio di Laria, che, anche se potessi farlo, ci sono stati dei tentativi di look da parte della regia. Addirittura... Terribile. Addirittura mi hanno messo le tette finte. No, non sono andati in onda, sono andate delle prove, delle prove dietro le quinte. A un certo punto mi sono presentata con questa cosa, che dicevo, oh mio Dio, speriamo che non scelgano questa quarta abbondante così, perché veramente non me la sento. Fortunatamente hanno deciso che non era il caso. Cioè, quello, per esempio. Invece il liscio all'inizio mi stiravano i capelli sempre, perché, insomma, secondo l'immagine che si erano fatti, era un'immagine più precisa, più... Fa più severa il capello liscio, perché poi è dritto, come il tailleur, tutto l'espitale, tutto precisivo. Esatto, esatto. Però erano dolori, perché mi stiravano ogni mattina. Eh sì, cavolo. Vabbè, voi non potete capire, ma... No, no, vabbè. Io sì, io sì, la mia ragazza è Riccia, e infatti quando si deve farla piegare... E quindi i miei non reggevano tantissimo, cioè a fine giornata, infatti in quel famoso episodio dei 59 Chuck, in cui si riscia, nella parte finale dell'episodio, cioè se uno mi guarda, non sono pettinata, cioè comincia ad avere dei cosi che sparano in testa, perché non reggeva più, insomma. Io volevo farti una domanda legata ai 59 Chuck, non solo a te, però nella tua impressione, chi era quello che sbagliava di più di tutto? No, non si può dire. Non si può dire. No, non si può dire. In contrario, magari si può dire invece, la persona, o c'era qualcuno che proprio dicevi, wow, ma come si cala bene nel personaggio questo attore? No, in che senso, scusa? Qualcuno su Instagram ci aveva proposto la domanda, chi si calava meglio nel personaggio? Così era più o meno scritto. Ma, no, è un po' difficile, no? Perché da tipo Paolo Chessisoglu mi pare di capire che è quasi opposto anche lui al personaggio che ha interpretato. Sì, esattamente, sì. Mentre in un altro paio di casi c'è più somiglianza tra quella che è la persona e il personaggio. Nessuno è uguale, ma c'è un po' più di somiglianza. Sì, 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 però. Quindi magari è difficile da giudicare. No, infatti non saprei dire, perché comunque tutti hanno fatto un grosso lavoro, insomma. Sì, sì. Quindi sicuramente, no, non c'è qualcuno un po' più, un po' meno, insomma. Comunque c'è stato un grande impegno di tutti, anche perché sono dei personaggi ben definiti, ben ritagliati, ben costruiti. Quindi, insomma, per tutti un grande lavoro. Sì, sì. Ok, aspetta. Ecco, una domanda che noi proviamo a renderla un pochino meno cretina, diciamo. Perché spesso si chiede, ah, chiedete cosa sono le C14. Però, ufficialmente, non c'è una risposta da quello che abbiamo capito. No, le C14, le C14. No, no, no. Ma per caso, tu ti immaginavi qualcosa o, anche questo dicevi, no, no, è semplicemente una sigla. Ci si immaginava un qualche prodotto giusto per aiutarsi un po'? No, non c'era bisogno. No, non c'era bisogno. Era una costruzione, sì, era una costruzione mentale. Però, credo che ognuno di noi sia fatta, sì, ognuno di noi abbia fatto la sua, però, appunto, era una costruzione mentale. non c'era bisogno di andare tanto nello specifico, se un, quale tipo di prodotto, ecco. Ok. Quindi tu non avevi in mente, magari, un chip per gli asciugati. No, poteva essere un, beh, innanzitutto non si può dire perché non si sa mai, deve comunque rimanere. No, no, no. Ovviamente. Boh, poteva essere un chip. Onesto. Ho capito. Ok. No, effettivamente, cioè, si capisce, io capisco adesso al 100%, perché effettivamente, indipendentemente da qualsiasi cosa vende un'azienda, i modus operandi è sempre quello. Sì, esattamente, infatti, è tutto il resto che poi, che poi costituisce, cioè, tutto l'apparato aziendale, diciamo, che poi è importante, no? Sì. Sì, sì. A proposito di azienda, per caso, prima, cioè, quando tu ormai stavi interpretando Ilaria, sei riuscita a prendere spunto da delle persone che avevi incontrato nella tua vita? Sì, beh, dunque, sì, certamente. Magari in aziende o magari? Allora, io ho anche lavorato in un'azienda. Ok. Per un breve periodo, non era neanche in Italia, ero a Barcellona, ero a Barcellona, ho lavorato in un'azienda, sto parlando del periodo universitario, e avevo avuto questo, ho fatto questo stage di lavoro in un'azienda, in un'azienda parte francese, parte catalana, cioè, anzi, no, non è vero, l'azienda era francese, in quel caso però si parlava anche spagnolo e catalano. Ho fatto sei mesi di lavoro in questa azienda e chissà, forse, appunto, se ci fossi rimasta, visto che comunque avrebbero voluto che io rimanessi, forse sarei diventata direttrice manager, direttrice marketing, chi lo sa? Non si può sapere, eh, boh, così, vabbè, e quindi qui, lì ho fatto questa esperienza, poi comunque intorno a me, sì, perché comunque intorno a me, insomma, tra amici che fanno altri lavori, che lavorano in contesti normali, diciamo, quindi non lavorano tutti nel mio settore, e quindi sento i racconti, certamente, quindi ho preso spunto. Ok, ok, allora anche come Renato Liprandi ha raccontato che aveva proprio preso spunto addirittura da una persona specifica del suo passato, che era un direttore, eccetera, 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 eccetera. Beh, io in quel caso ero stagista, ero stagista, vabbè, sono stata anche centralinista, però, vabbè, Devo dire, molto comica la cosa, perché se pensate a, vabbè, parlavo spagnolo, altrimenti non mi avrebbero presa, naturalmente, però al centralino di una, di un'azienda dove parlano anche in catalano, e quindi ti chiama la gente, tu, cosa ha detto? Cioè, insomma, delle scene veramente comiche, sì. Io volevo chiederti per il francese, invece. E il francese, sì, sì, e parlavo facili. Allora, appunto, in quell'intervista che ho visto su Instagram, avevi citato Nizza, che avevi visto degli episodi già di camera caffè francese, prima di fare il provino. Sì. Parli francese, lo parlavi, avevi capito più o meno? Sì. O sono distruggita? No, 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 un po' avevo, no, 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 avevo capito, parlo, parlo francese. Però stranamente non ho, quando, veramente, quando ho fatto il provino qui, cioè, non ho collegato, veramente all'inizio non ho collegato, una sciroccata pazzesca, cioè io, anzi, non solo non ho collegato, addirittura ho pensato, io avevo fatto questo provino... Che strano, ho le stesse scenografie. Assomigli. No, 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 però, no, durante il provino, il primo provino che ho fatto l'ho fatto a Roma, avevano organizzato, era stato organizzato un provino in questo albergo, fosse un albergo di Roma, perché c'era tantissima gente, tantissimi erano intervenuti al casting, quindi avevano preso questo spazio molto ampio, quindi non c'era alcuna scenografia, una stanza spoglia, una telecamera, ma non capivi dal... Cioè, in effetti, io non ho neanche collegato quello che avevo visto un anno prima, credo, non avevo assolutamente collegato, avevo questo testo, così, e ho anche pensato, buh, ma non so se questa cosa funzionerà. Ok, come una frase molto divertente che dice De Marinis, tra l'altro lo dice proprio il personaggio Ilaria, mitica la frase in cui lui, parlando della pubblicità del TFR, fa un commento meta dicendo due attori che parlano davanti alla macchinetta, che idea cretina non funzionerà mai. Esatto, esatto, esatto. E io ho pensato esattamente questa cosa. Ma sì, dai, queste erano le domande, grazie mille, siamo felici che finalmente ce l'abbiamo fatta. Comunque mi ha fatto ridere che anche Gaia ha fatto il provino per Ilaria. No, noi lì ci siamo proprio trovate, dopo i provini a Roma, ci siamo proprio trovate a Milano e entrambe siamo state di nuovo provinate, adesso non ricordo bene, alcuni giorni, sono passati alcuni giorni in cui non si sapeva cosa sarebbe successo e ci trovavamo nell'area relax vera, però, nell'area relax vera dello spazio appunto di produzione. E poi ognuna di noi veniva convocata per fare il provino, forse per quello che a me mi hanno messo le tettone, poi non lo so, però noi in realtà ci guardavamo molto tranquillamente, non in Cagnesco, ecco, perché però c'era in ballo quel ruolo lì e poi invece appunto quello di Ilaria e quindi, insomma, sì, è successo questo, non erano ben chiari ancora i... evidentemente per la regia non era ancora ben chiaro come sviluppare i personaggi. Eh sì, io non riuscirei a immaginarle al contrario i personaggi, onestamente. Eh, speriamo di avere l'occasione di risentirci un giorno magari. Ok. I fan sono molto... molto presenti ancora, nonostante la sitcom abbia tanti anni. Eh, lo so, abbiamo parlato con... Scusate, si era parlato con Massimo Costa, cioè con Pippo. Sì, Massimo. Eh, che è un altro che sento spessissimo, eh, perché poi lui... Parlagli di noi. Eh? Parlagli di noi, che anche a lui ci farebbe piacerissimo intervistarlo. Sì. Ah, ma lui avrebbe molto piacere, non l'avete contattato? Eh, sì, ma ci si è persi con i messaggi, cioè aveva detto di sì poi, ma gli scriveremo di nuovo. Ah, sì, ok. No, vabbè, glielo dico perché lo sento... comunque ci sentiamo spesso, anche perché lui è uno da Buon Natale, cioè, no, vabbè, tutti noi però, Natale, Capodanno, Epifania... È bravissimo con questo. 25 aprile, la festa delle donne, cioè auguri, semplici, qualsiasi cosa, sì. E comunque si era parlato di organizzare qualcosa per... perché quest'anno sarebbero i vent'anni. Vero? È una cosa terribile. No, però sarebbe molto bello da fare. Magari a Milano tanto... Io voto sì. E quindi... Sicuramente ai fan farebbe piacere. Non so. Tanti fan riusciamo a portarli, penso. E vediamo se per caso si riesce ancora a organizzare dal punto di vista materiale, no? Cioè, comunque, sì. Non è facile, capisco, ma... Che bello sapere che è stato quanto meno citato tra di voi, vuol dire che... Sì, sì, sì. Ma c'è una piccola possibilità. Sì, è che siamo tutti un po' sparsi, quindi la vedo un po' dura. Cioè, bisognerebbe veramente... Beh, insomma, avevamo... Si era fatta una festa anni, 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 anni... Cioè, finito... Sì, alla fine di un'edizione, delle ultime... Non proprio le ultimissime edizioni, si era fatta una festa a Milano. E avevano partecipato quasi tutti, quasi. Però poi ci siamo sparsi ancora di più. E quindi, non so. Comunque, in casa avvisiamo. Ok. Che volentieri, noi sempre presenti. Soprattutto se a Milano, più che volentieri. Siamo già in sede. Perfetto. Va bene. Grazie mille ancora, Claudia. Figuratelo.